Un altro duro colpo al comparto agricolo, un'altra ammazzata che rischia di spegnere le flebili speranze di che ha sempre avuto la forza di rialzarsi e lottare. L'ultima data di maltempo che si è abbattuto infatti sul territorio Ipparino è stata veramente pesante. Un territorio tra l'altro già segnato, oltre che dalla crisi economica, anche da politiche ritenute sfavorevoli al settore. Almano così la pensano dal movimento degli agricoltori. Sì, i danni praticamente sono tanti. Noi praticamente rappresentiamo il movimento per i diritti agricoli, MDA. E allora noi chiediamo, intanto deve scattare subito lo stato di calamità, bloccare tutte le cartelle serete, bloccare tutto perché non possiamo andare avanti più. Questo è praticamente una distruzione continua. Sette anni fa abbiamo avuto il ciclone Atos. L'hanno risarcita proprio. Neanche un centesimo. Stavano per arrivare i soldi ma non sono neanche arrivate. Non lo so dove l'hanno portato il signor Crogetto, non sappiamo che cosa ha fatto perché il presidente era lui. Speriamo che la nuova giunta della regione si fa carico di questi problemi che abbiamo in agricoltura. Allora ci chiediamo noi che si fanno un giro per tutti i danni che ci sono in agricoltura. Sono tantissimi. Si parla di... saranno 50-60 milioni di euro di danni. I lortaggi di dentro sono distrutti, finite. Da poco in pratica è impiantata la campagna agroal. Piandate in campagna e serre di pomodoro a 15 giorni della raccolta. Fra 15 giorni si doveva raccogliere il pomodoro. Tutto distrutto, tutto in fumo. Le serre per noi è il nostro pane, il nostro lavoro.